Possiamo capire a dare il ritorno a tutti i miei? Se ha ancora il biglietto che è in buono stato? Abbiamo appena comprato. Se il biglietto è ancora buono, si può... Uno. Il biglietto è un biglietto, è un biglietto, è un biglietto. Il biglietto è un biglietto. Se ti preoccupi, non ci sono delle cose. Se ti preoccupi, vi ci hanno ancora il bambino? Ci sonoési! Non, mi unico. Ci sonoi conciazzi, qui sono i suoi. Eppure le persone? Ampettate. Come portate qui sui? Come portate qui? Unissimo palazzo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.